eccolo l'ha detto quando non avete il muletto chiamate salvo sky one bentornati jumper sul canale questo è l'ultimo video dell'anno quindi sarà un video esplosivo andremo a lottare contro i mostri indietro di nuovo di nuovo oggi tenteremo per la fine dell'anno di superare ancora un'altra volta i nostri record facciamo i posti proprio di capodanno mettendoci di sotto i piedi cercando di metterci due graudi speriamo di non esplodere ok jumpers inizio io mi sono un po scaldato questo tra 25 e lo alziamo vediamo qui dove riesco da arrivare let's go easy ok jumpers anche 3.30 rettifica dell'ultimo minuto allora niente ho sbagliato misura lo stesso più alto fu di prima non era 3.30 ma 3.33 l'anno di cristo poi andiamo a 3.35 che era quello che volevo fare dopo quindi fai solo due centimetri in più adesso hai qualche centimetri propriolatto probabilmente ha anche 3.35 le abbiamo chiuso jumper alziamo 340 direct vai vai alzalo questo mostro allora dato che arriva 39.5 manca quel mezzo centimetro non ho adesso fuoco mist 구슬 jump prende gli ultimi tappetini per arrivare a 340 340 jumpers non arrendetevi mai mi raccomando questa è la prova eccoci jumpers adesso tocca a me ovviamente io porto la 310 vediamo cosa riusciamo a fare ok 310 come di scaldamento è andato adesso proviamo subito 315 let's go ok la 15 è andato adesso tocca già a 320 non è semplice come lui era prima ma ci lavoriamo solo la voglio più ciò che oggi voglio provare 325 il mio record oggi lo devo battere jumpers chiedo l'aiuto da casa ovvero l'altro dei mister jump un pallone non arriva per pensare alla 6 a 6 a 6 a 6 a 6 a 7 a 7 a 7 a 7 a 7 a 9 a 9 a come a a ha zoom a a Dumpers, voglio chiudere l'anno del top Dumpers, mi devo arrendere perché non ce la faccio più Let's go! Eccoci jumpers, arriate a tirare il video, ho scusato lo sfogo finale Sono tutt'ora imparato ai 40 dopo 3 anni Previnto anche a Sky One che ha rieguagliato Sony con i 3.25 Obiettivo nel 2022 Che c'ha la 330, è la base Sarà il nostro riscaldamento ormai Abbiamo finito l'anno con il bozzo Questo vuol dire che non si devono mai arrendere assolutamente A sostenereci mi raccomando lasciate un bel like Iscrivetevi al canale, lasciate un commento proprio al video Buone festività, buon anno Buon anno a tutti jumpers Ci vediamo nel prossimo anno con un salto 2022 arriviamo Ciao!